Buon lunedì e noi di redazione, benvenuti, Maurizio Dallò con voi e tutti gli ospiti che abbiamo, vado intanto a salutare Michael Cuomo, ciao Michael, Claudio Garioni, Pino Vaccaro, tra poco saluteremo anche quando sarà possibile, c'è già il consenso, quindi il consenso arriva dal governo, il governo Malleo, ecco qui che scioglie ogni dubbio, salutiamo anche il direttore Fabio Ravezzani, buon pomeriggio direttore. Un saluto a tutti voi. Grazie, molto gentile. Allora, partiamo subito da questa situazione di mercato che sta coinvolgendo però Frattesi, che mi sembra l'argomento un po' principe di questo nostro inizio di riunione di redazione, perché? Anche perché ha parlato Carnevali e Carnevali si è espresso facendo capire, strano perché non parla mai, ci fu anche un mesetto, fatti ricordi, quel conviviale giorno della presentazione del libro di Galliani. È meglio che ci sono dei dirigenti gentili verso i giornalisti. Escono ausilie, ma noi siamo amici, io e Carnevali, non si era mai parlato di nulla. Però oggi Carnevali ha detto ufficialmente che il ragazzo costa 40 milioni e che soprattutto nel lotto delle richiedenti non c'è mai stato il Milan, stando al fatto che lui dice, io il Milan, mai sentito nella mia storia. Quindi vado subito da Michael a vedere se è terrorizzato da questa smentita, perché il Milan ha bisogno di mercato e soprattutto il Milan... Michael poi è quello più adatto a parlare di questo giocatore, ve lo segue da anni. Lui gli voleva generare a Monza, allora erano amici, gli disse, guarda che questo giocatore è eccezionale. E in quell'anno lì, sui nostri canali, lui fece nove gol capocannoniere del Monza di Giovanni Stroppa, non di Giovanni Stroppa, di Christian Brocchi in Serie B. Pensa a te. No, il Milan è l'unica a non essersi presentata in via Manzoni agli uffici del Sassuolo, però ha mandato in avanscoperta il suo procuratore, che è Beppe Riso. E la dichiarazione di Carnevali è la dichiarazione di chi ancora una volta vuole tenere aperta. Lui in questo momento sa che il Milan è quella con più disponibilità economiche e scuote. In questo momento sta dicendo, Milan dai fatti avanti, sono 40, cosa aspetti? È la metà di quello che ti sta dando il Newcastle per Tonali. E però il Milan, spero, ma da quello che stiamo capendo è così, il Milan dice, prima di prendere Frattesi un po' alla cieca, perché tu che parti con il 4-2-3-1 lo prendi un po' alla cieca, Frattesi. Lui che pubblicamente ti dice io gioco a tre e giocare a sinistra non sarebbe un problema, alludendo al fatto sì, anche se c'è Barella, tutto portava all'Inter in quella. Allora il Milan dice, secondo me, con grande senso di responsabilità, il Milan dice, prima di prenderlo, pam, perché così teniamo un po' calmi i tifosi, ragioniamo bene. E oggi il Milan tra Frattesi e Loftus-Cic, per esempio, oggi il Milan si sta concentrando più dall'altra parte. Però sono sempre un po' scettico su un giocatore che può giocare solo a tre, può giocare solo a due, cioè questo giocatore ha delle qualità che possono adattarsi. Io ho parlato con l'allenatore, con chi lo allenava, con chi lo ha allenato al primo anno vero e la risposta sua è i giocatori forti, no, i giocatori fortissimi giocano ovunque, lui è fortissimo, tant'è che Almonza ha fatto la mezzala, ha fatto il trequartista, ha fatto addirittura a sostegno della punta, ha giocato nei due davanti, ha fatto il sostegno della punta. Quindi anch'io sono dell'idea che lui può giocare nel 4-2-3-1. Anche perché non è un giocatore di, diciamo, geografia di campo, cioè è un giocatore che ti dà tanto intensità. Momblano ha detto una grande verità, Momblano ha detto una grande verità. Momblano dice, Frattesi non è uno di quei giocatori che vanno valutati a statistica ma a movimento senza palla. C'ha ragione. Quando tu giochi con Frattesi, infatti io dico, se l'Inter davvero dovesse prendere Frattesi e riuscire a far coesistere Frattesi a Barella, l'Inter gioca in 12 tutte le partite. Gioca in 12 tutte le partite. E infatti l'Inter sta accelerando l'uscita di Brozovic. Brozovic è una trattativa anche questa che anche oggi sentivamo con la gente a casa. Però secondo me, dato che poi i giocatori esprimono preferenze, ma alla fine comanda sempre il soldo, Frattesi ha espresso la preferenza di giocare nell'Inter. Però poi se l'Inter da 3 e il Milan da 4, Frattesi cosa dice? No, rinuncio a 1 per andare all'Inter. Vado e gli danno 4. L'aveva anche detto. In caso di una offerta rinunciabile vado. Io credo che davvero tutto dipenda dal Milan. Perché ha più disponibilità economica dell'Inter in questo momento, oltretutto dopo la cessione di Tonali, che è molto più enerosa rispetto a quella di Brozovic. E poi mi direte, l'Inter però ha la carta Mulattieri da giocarsi. Il Milan ha la carta Colombo. È perfettamente identica. L'Inter darebbe soldi più Mulattieri, il Milan dà soldi più Colombo. È uguale. Anzi qualcosa in più. Secondo me Colombo arriva in Serie A. Colombo arriva dall'A e ha fatto il gol salvezza nell'Ecce. Mulattieri arriva dalla B. Dove ha fatto bene. Dove ha fatto molto bene. Ma 40 è giusto, secondo te, il prezzo? Beh, ci sta, dai. Ci sta. Però io capisco che qua non ci siano grandi estimatori di Brozovic. Costa la metà di Tonali. Eh, lo capisco. Però si sottovaluta l'assenza di uno come Brozovic, che prende e se ne va. Ripeto, capisco che ho qui gente che non è grande estimatore. Sono d'accordo con te. Però si minimizza in maniera clamorosa. Dico che non è un buon giocatore. Dico che viene considerato più di quello che... Nelle undici partite, nelle undici partite, noi diciamo tutti. Torna Lukaku, ma torna anche Brozovic. L'Inter prima di queste ultime undici partite prendeva gol sempre. E chi minimizza dice, in quelle dodici che ha perso, la gran parte li ha giocati Brozovic. No? No. Eh, no, hai capito? Capito. No, comunque, comunque, restando su frattesi... Quest'anno ha giocato meglio Celanoglu di Brozovic lì. Quest'anno. Sì, poi quando il calendario si è fatto caldo... Sì. Chi ha giocato nell'aeroderby dei due? Posso sentire... Era caldo, no? Uno ha guardato dalla panchina. Chi ha giocato alla finali Champions League? Sì, tutte e due. Ma chi ha giocato bene? Brozovic. Dove? In mezzo. E in mezzo? Sì, sto dicendo, in quel ruolo lì, a parità di prestazioni stagionali, Celanoglu ha fatto più di Brozovic quest'anno. Però per rispondere alla tua domanda... Brozovic, condizionato dall'infortunio e tutto quanto, sono d'accordo. Ma? Però era il primo anno che c'era una vera alternativa. Io dico. E il titolare era diventato Celanoglu. Io dico. Se ci fosse stato Mkhitaryan a pieno regime, chi giocava alla finale di Champions? Giocava Brozovic-Mkhitaryan. Ma? Le fuori Celanoglu. Purtroppo, guarda, io sono stimatore di Brozovic, ma visto come si sta muovendo... E allora avrebbe sbagliato come ha sbagliato a far giocare Gieco. Infatti sono d'accordo. È molto semplice. Ma infatti, secondo me, io è una cosa che non comprendo. Comunque, frattesi 40, per te li vale 40 milioni? Sì. Io ti dico, se Tonali va all'80, frattesi la metà città. Se l'Inter fa barella frattesi, il centrocampo è qualcosa in Italia dominante. Dal punto di vista del dinamismo, sì. Però, dal punto di vista del palleggio, dell'incursione, della quantità... Dal punto di vista del recupero non lo so. Dal punto di vista della costruzione non lo so. Comunque, frattesi è... Tanta roba. Non è Locatelli che va via dal suo suono e si spegne. No, quello sì, lo so, lo so. Direttore, allora, innanzitutto il fatto è che viene fatto finalmente un prezzo, ma si sapeva, perché tanto ormai i giocatori più scarsi costano 17, 16, 20 al massimo. Quindi uno bravo vale il doppio, Norma. E mi sembra che la legge di questo mercato sia un po' questa. E frattesi forse li merita 40 milioni? Io non credo che frattesi meriti 40 milioni come non ne meritava 80 Tonali. E' chiaro che se noi prendiamo come pietra di paragone Tonali, frattesi non è la metà di Tonali. Quindi io non prenderei però Tonali come pietra di paragone. Cioè, per me frattesi è un giocatore che se lo compri a 30 hai già fatto un grosso investimento. Non vedo perché... Se no, poi siamo sempre al solito vecchio problema. I costi, l'indebitamento dei club, la situazione è sempre più delicata. Io dico che 40 per frattesi puoi anche tenertelo. E sono assolutamente certo che se venisse pagato 40 sarebbe in funzione del testa a testa della gara di rilancio tra Inter e Milan. Non lo farei né come Inter né come Milan. Direi che questi sono 30. Ti va bene? Anche perché se no 40 vuol dire che devi dare 4 milioni di euro a lui. Perché devi dare un decimo dell'ingaggio. Più o meno ormai è passato questo concetto. Quindi 4 milioni di euro a lui diventano 8 milioni. Diventano quindi un'operazione in 4 anni di 32 milioni, 70, oltre 70 milioni di euro 4 anni per frattesi. Sono convinto che ci siano altri frattesi in giro per l'Europa. Non mi pare che frattesi sia il giocatore intorno al quale costruire il Milan o l'Inter. L'Inter per esempio con Mkhitaryan ha preso uno che è più bravo di frattesi. L'ha preso a parametro zero. È vero che ha 32 anni, 33, ma ha fatto una stagione fantastica. Quindi mi pare che poi alla fine ci si, come dire, in caponisca, ricordiamoci Condor Bià, su un nome pensando che sia l'unico che possa funzionare. Il Milan in questo momento ha bisogno intanto di Loftus Cic, che mi leggo, costerebbe sui 15 barra 20. È un prestito con obbligo a 15, 15, 18. Non so quanto prende Loftus Cic di stipendio, ma c'è il decreto crescita. Quindi tu puoi prendere Loftus Cic probabilmente dandogli 4 milioni di euro, anche 5, e ti costa anche qualcosa in meno di frattesi che dovrebbe prendere 4. Loftus Cic è un centrocampista di stazionamento rispetto a frattesi che uno dà in cursione. E mi pare soprattutto che frattesi sia diventato un fenomeno negli ultimi tre mesi. Prima frattesi era un 20, 25, 40. Sono delle logiche sbagliate. No, ma se ne parlava anche l'anno scorso, poi il Sassuolo fa prezzi talmente esorbitanti. Perché vanno tutti su frattesi? Perché è l'unico che ti dice io in Premier non ci vado e voglio restare in Italia. Allora i club sanno e dicono, oh ragazzi, questo deve restare qua. Ed è forte. Sì, ma frattesi ha fatto due partite in nazionale, ragazzi. Non stiamo parlando di mandrake. Dico 40 milioni per Davide Frattesi vuol dire che tu ti sei privato di Tonali, che era comunque per tante ragioni un giocatore fondamentale. Il Milan perde contemporaneamente Tonali, che sì, e non avrà ben a essere l'anno prossimo. Cioè i tre che l'hanno reso grande a centrocampo. Per prendere Frattesi, se io vado a vedere su Wikipedia, alla voce Davide Frattesi, viene fuori che con l'Italia ha fatto sei presenze e dieci con la Nazionale Under 21. Non è esattamente il giocatore strepitoso che ha lasciato tutti a bocca aperta. È un ottimo centrocampista, non dico di no. Però il primo anno fa quattro gol, il secondo anno fa sette gol col Sassuolo, giocando in un ruolo che gradisce lui, in un ruolo che lui già ti dice io sono quella roba lì e voglio un centrocampo a tre. Non lo so, non dico che non sia bravo, dico che secondo me i 40 sono troppi. Insomma sì, in effetti lui ha giocato 2.969 minuti quest'anno. E non è stato fermo un minuto però. No, lo capisco, perché lui ha fatto 36 partite, ma nel Sassuolo può capitare di giocarle tutte. Maurizio ci sono due obiezioni. No, dico in campo, non è mai stato fermo un minuto, è sempre stato un motorino per sistema. Però sui 40 milioni alti io sono d'accordo col direttore, perché stiamo parlando comunque di un giocatore che ancora non ha giocato un minuto nelle Coppe Europee, quindi ancora a pedigree internazionali non ce n'è. E dall'altra parte... Tu lo volevi a 30 alla Roma però purtroppo. 30 va bene, 30 con dentro due giocatori però. Io non l'avrei preso. No, neanche a 30 all'epoca? Subito. No, adesso sono fermi a 30, il loro proposto è 30 con dei promissori e un altro. Si trasferma che non fa testo direbbe 25, ma 25 non fa testo il valore che viene riportato qua in casa. E Barella quando va all'Inter ha 7 presenze con la Nazionale A. Ed è stato pagato 50 milioni. 7. 40. 40. Solo 40? Sì, però Barella... Mi è stato pagato 40, ma Barella era il capitano del Cagliari. Era un giocatore straordinario in un mercato, secondo me, molto più ricco di quello attuale. Cioè quello era... È stato pagato 40 dall'Inter di Zang che spendeva così, buttava soldi dalla finestra, salvo poi piangere le lacrime di coccodrillo dopo. Per far contento il suo allenatore. Scusa Fabio, che poi storce il naso perché dice chi volete che faccia la differenza, Barella che viene dal Cagliari, ti ricordi? Sì, 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 e Sensi che viene... Però abbiamo speso 85 per... No, 50 milioni Fabio. Fabio, sono 50 milioni. 40 per frattesi, 28 mi pare per Sensi, non so se a Chimi era quell'anno lì 35, forse l'anno dopo. Cioè tutti pagati così cash. Era un altro mercato, adesso non c'è più. Eh, ma scusami, scusami Fabio. Non è che dico 10, per frattesi, dico 30. Fabio, scusami. Mi sembra un'esagerazione perché poi sia il Milan che l'Inter si inibiscono ulteriori trattive. L'anno scorso abbiamo visto il Milan tirare scemo e diventare scemo per prendere lo sciagulato de Ketelare che era cosiddetto la stella più fulgida del Belgio. Tra parentesi si è mangiato un altro gol anche con l'Under 21 l'altro giorno. Sì, però Fabio, scusami, erano più pesanti 50 milioni di allora di Barella che i 40 di oggi di frattesi in un mercato dove... Allora non c'era il Newcastle di turno o il piffe della situazione o la rabbia che ti drogavano il mercato in questo. Purtroppo siamo in un mercato drogato. Tu dirai... Ma lì l'Inter aveva speso 140 milioni in contanti per i calciatori quel mercato lì. Cioè delle cose che non ci immaginiamo neanche noi oggi. E spende 50 milioni per Barella che giocava al Cagliari che onestamente era il sassuolo di oggi. Ma aveva 140 milioni di cash da pagare, da spendere. Pagava l'allenatore 12 milioni di euro l'anno l'Inter. Cioè era un'altra realtà di calcio. Eravamo pre-Covid. C'era un'altra situazione. E appunto. E oggi siamo in un contesto dove i club dicono cara Grazia che Frattesi è l'unico che dice no, voglio restare in Italia. Se non è 40 per Frattesi, dove vado? Però, perdonami. Vado dall'Oftus Cic a 15. Sì, ma in questo contesto in cui prendere stiamo facendo tutti i prestiti. Sì. E' questo che fa sembrare 40 tanto. Cioè il fatto che comunque in questo periodo stai facendo soltanto prendere solo prestiti. Ognuno sta facendo prestiti. Il milione, due milioni, prestiti con diritto. Vediamo l'obbligo ancora non c'è stato. No, no, no. Parametri zero. Solo parametri zero. Pino, no. Non è vero. Oggi sì. Il nostro mercato italiano sì. Aspetta. Oggi sì. Perché qua siamo di fronte a un'altra estate anomala. Perché noi pensavamo che con le tre finali europee avessimo risolto tutti i problemi del calcio. No, no. E' sempre peggio la situazione. Sempre peggio. E' per quello che cozza. Capito? Con questo scenario, spendere 40 milioni per il giocatore è cozza. Ma nel caso del Milan, poi io, ripeto, io esordisco dicendo che il Milan sta pensando bene a cosa fare di frattesi. Quindi per me il Milan è forse secondo se non terzo nella lotta a frattesi. Detto questo, tant'è che il Carnevale dice dai Milan vieni che sei il più ricco, dai vieni. Sono 40, vieni. Perché il Milan attualmente evidentemente non c'è neanche in questa lista, ufficialmente. Quello che sto dicendo è che 80 per tonali e l'Inter farà 60 per Onana. Ma fuori dall'Italia però. Questo è tutto in entrata. Poi vediamo quanti ne verranno utilizzati. Io sto dicendo di quello che... Qualcosa però dovrai utilizzare. Sì, ma vediamo quanti ne verranno utilizzati. Ho capito. Perché anche quello che si legge rispetto a Onana e poi i portieri che farà l'Inter, non sembra che facciano Onana e poi prendiamo uno che costa 40, eh? Non sembra che si fida la strada, eh? E no, no. Però come spende quei 40? Su Lukaku. Oggi quello che ci raccontano gli interologi è questa roba qua, eh? Ci può stare, non lo so, il ragionamento. Prendiamo un'idea un po' così, un po' non troppo entusiasmante in porta, però con i soldi di Onana vado a prendermi Lukaku in attacco. Perché è più importante fare gol che avere uno che dietro sappia usare i piedi. Io ho le interpretazioni, cioè puoi dire sì, puoi dire no. Secondo me, a me sembra esagerato, spende 40 milioni anche qua, per un attaccante che comunque va verso i... Perfetto, perfetto. Contro risposta. Vai a prendere UAI. Che non è la certezza. Se noi ai nostri telespettatori non scriviamo UAI, chi è? Non sanno neanche... Senza il punto interrogativo. Dicono UAI, perché chi è questo? UAI. Chi? UAI? Sono 40 comunque. UAI. 40. E senza parlare di... Bonifaz, Union Saint-Gillois. Quanto vale? 30. Ma pensa a te che roba. Eh, allora prendo 40 Lukaku. Scusami. Scusami. E se faccio il nome di Scalvini quanto vale? Scalvini vale tantissimo. Sono tutti fissi così. 40. E allora vedi... Scalvini vale tanto perché piace in Premier. È uno su cui puoi fare davvero un bel... Infatti andrà magari a giocare là. È più facile che star qua. Comunque c'è anche... Prima di andare in Puccia ribadiamo il concetto che l'Inter sembrerebbe sulla strada di prendere... Io non ci credo. Finché non lo vedo Musso in prestito dall'Atalanta come portiere. Ma non si può fare un paragone perché va via un anno arriva Musso. Con rispetto a chi fa il titolare Andanovic. No, non lo so. Vedi che crei un problema così. No, ma perché tanto alla fine è vero. Cioè, il portiere quando tu perdi quelli bravi... Perché solitamente nella storia del calcio quelli bravi... Musso all'Udinese era un bel portiere. Eh, ma infatti lo voleva già anche l'Inter allora. Ti ricordi che si parlava. Poi finisce l'Atalanta che lo strappa... Sotto le tue sgrinfie si è rovinato. Sì, ho capito. Esatto, ma... Però capisci che dal punto di vista della penificazione è un po' strana come cosa, no? No. Sarebbe un po' strana. Ma io lo vedo che possa andare in prestito all'Inter, eh? La penificazione dell'Inter era vendo Nana, prendo Vicario. Poi è intervenuto il solito fattore esterno... Eh, Vicario non c'è più. Vicario non c'è più, devi trovare una soluzione alternativa. Non è facile, ovviamente. Musso uno può fare una scommessa. Sì, però attenzione. Il portiere che è andato all'epoca all'Atalanta... È vero che io rimasi un po' sorpreso perché all'epoca si diceva... Musso, portiere emergente, uno dei più bravi della Serie A. Passa per una cifra che all'epoca era, mi sembra, 18-20 l'ha pagato l'Atalanta. Quindi non era una cifra da giocatore in rampa di lancio enorme. Quindi forse gli addetti ai lavori, evidentemente, qualche limite nel ragazzo l'hanno visto. E effettivamente a Bergamo ha fatto male. Guarda, sentenziare sul mercato. Il mercato si commenta. Sentenziare sul mercato, soprattutto negli ultimi anni. Noi non impariamo mai questa lezione. È un enorme rischio. Kvaratscheli era l'impronunciabile. Kim era il manga. Beh, ma pensa a Bartali. Musso era fortissimo. Come cambia in base alle squadre in quel gioco? Musso era fortissimo. Nell'estate di Tonali Locatelli l'affare l'aveva fatto la Juventus. Vi ricordate? L'affare l'aveva fatto la Juventus. E invece? Oggi Locatelli è lì a Torino. E Tonali va per 80 milioni a guadagnarne 10 in Premier League. Newcastle farà schifo? Farà sicuramente più schifo di Torino e di Milano. Però intanto sono 10 milioni. E per 6 anni. Ma fai la Champions League. E fai la Champions League. E giochi in Premier League. Fai bene. No, no. La sua scelta... Ma ragazzi, cosa gli vuoi dire? Non è in pubblicità, però si fanno anche tre nomi un po' più importanti di Musso e sono quelli di Sommer, Keylor Navas e Lloris. Che pare siano, come segnala Sport Mediaset, dei profili di esperienza, però low cost, che potrebbero ovviamente essere il dopo. Il primo è buono. Ma sì, lo Sommer non è male. Fermiamoci, ne parliamo magari ancora dopo la pubblicità. Rieccoci allora, Fabio. Stando a questo, il discorso è sempre stato che io ho visto portieri stare anni e anni e anni tra i pali nei vari club. E poi alla fine invece quest'anno più che mai il Milan ha rischiato di perdere Mignan. L'Inter perderà Onana. Portieri, io dicevo anche oggi con lui in trasmissione, secondo me l'Inter potrebbe anche pensare a un normal portiere che sia anche bravo, uno che voleva i vicari, o c'è Di Gregorio che potrebbe essere altrettanto bravo. Ma diventa sempre un po' difficile individuare questi giocatori da mettere in porta. Io onestamente per un portiere direi vieni qua, fai almeno cinque anni tranquilli e non te ne vai via. Però adesso le offerte sono così alte. Ma sai, sia l'Inter che il Milan sono in una fase pericolosa, anche se per certi versi affascinante, di decostruzione. Cioè se tu prendi l'Inter con Onana che sembra anche lui destinato ad andare via rispetto all'Inter di inizio dello scorso campionato, tu perdi tre titolari e mezzo. Nel senso che Onana poi è diventato titolare. Hai perso Skriniar, perdi Brozovic ed è andato via Dzeko. Tanta roba, eh? Cioè è mezza squadra da rifare. Il Milan perde Brian Diaz, che comunque il suo l'ha fatto, ha perso Tonali. Perde di fatto Ben Nasser fino all'inizio anno. Anche qui la situazione è molto complicata. Oltretutto deve buttare a mare tre quarti della campagna acquisti dell'anno scorso. Perché anche lì, sai, però sai, nel frattempo erano arrivati De Chetelare anche nel Belgio va male. Quindi bisognerebbe essere pazzi per partire con De Chetelare. E se tu non parti con De Chetelare titolare rischi di averlo di nuovo lì un anno a languire, a giocare venti minuti, a sbagliare un gol, a fare due o tre bei passaggi e niente di più. Cioè non è né carne né pesce. Quindi, diciamo, nella ricostruzione, tu mi chiedevi del portiere dell'Inter, io dico va bene un portiere buono, anche se avevi un grande portiere, perché abbiamo visto per esempio Milan con un portiere scarso, in qualche modo, stare a galla, che era Tatarusano. Non mi sconvolge tanto l'idea dell'Inter che perde Onana, o paradossalmente Milan che perde Mignani se gli dessero tanti soldi. Mi preoccupa di più vedere cosa succede davanti. Allora, è chiaro che se l'Inter perde Brozovic e prende Frattesi, ok, comincia a mettere a posto un tassello. Se Milan perde, a mio avviso, ha perso Tonali e prendesse l'Optus-Cic, e viene questo Kamadà, insomma, riesce a rimettersi un po' incareggiata. Questo è però il momento di capire anche chi compra le nostre squadre, perché abbiamo capito chi vendono, tutti, se possono. Non abbiamo capito ancora bene chi comprano. Insomma, è una situazione un po' delicata. Come Fabio è delicata la situazione è che in questa giornata, dove compie gli anni Paolo Maldini, anche il Milan gli fa gli auguri. Insomma, qui c'è un effetto nostalgia? Beh, no, anche noi ti facciamo gli auguri quando è il tuo compleanno. No, però ho capito, c'è questo spirito di aggregazione, perché, insomma, mi sembra di aver visto Teo Hernandez, anche lui. Ovviamente c'è grande stima. Ho visto che c'è Vieri che ha fatto una risata omerica sugli auguri del Milan a Maldini. Ma sai, Maldini parla male del Milan, di questo Milan, e questo Milan parla male di Maldini. Poi però formalmente gli fa gli auguri. Insomma, direi che è il gioco delle parti. È il gioco delle parti. Peccato che poi alla fine nessuno abbia voluto esporsi. No? Cioè sarebbe stato bello, non per amore di polemica, ma di chiarezza, capire qualcosa in più. Il Milan non ha spiegato perché è andato via Maldini, e Maldini non ha spiegato perché è stato mandato via dal Milan. Rimangono i sussurri. Gli avevano detto che vendevano tonali, lui a quel punto ha sbattuto la porta. No, ne avevano talmente le scatole piene che quando è andato lì con un fare un po' arrogante ha detto, forse non ha capito, quella è la porta. Sarebbe interessante conoscere qualche retroscena in più. Lui ha pensato di dir la sua. Poi è andato a Miami. Poi magari verrà un giorno in cui dirai. Verrà un giorno in cui potrebbe dire qualcosa, certo. Io non lo nego, però dico tutto questo attaccamento, tutta questa sensazione, perché molti parlano di disorganizzazione del Milan in questo momento in tante cose, no? Perché uno fa faticare a capezzarsi, qualcuno lega l'immagine della partenza di Maldini a uno screzio del quale non si sa. Guarda, negli ultimi anni ne ho sentite talmente tante che queste qua ormai non mi sorprendono neanche più. Ma lui contrattualmente com'è che si era lasciato? Cioè hanno deciso di... è stato licenziato... Non c'è una risoluzione del contratto. Perché lui avrebbe avuto un altro anno di contratto, giusto? Anche Massara. Magari negli accordi hanno anche scritto semplicemente che non dovranno rilasciare le dichiarazioni. Ma ti dico che se Maldini sparlasse, anche con la S davanti, sparlasse, secondo me... Non dico che farebbe piacere quasi al Milan, ma poco ci manca. Lo fai una volta... Organizzi la conferenza stampa il giorno dopo del licenziamento? Beh, sì. Finito. Piuttosto che vivere tutti i giorni con l'idea cavolo, oggi posso trovarmelo in rassegna stampa? Questo è il mio pensiero, no? Guarda che, ragazzi, scusate un attimo, negli ultimi anni più o meno è funzionato sempre così, eh? Arriva un bel giorno dove tu vai al bar, cappuccio e brioche, grazie, apri la gazzetta dello sport... E ti spunto un Boban. 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 E ti viene fuori un Le Verità di Maldini. Ecco, se le spiatti al piano domani mattina. Però più o meno, io credo, credo che, salvando poi quello che sarà il gioco delle parti, uno racconterà una cosa, uno racconterà l'altra, ma prima o poi si arriverà alla convergenza di cosa realmente ha portato alla rottura. Ma aspettiamo. Perché, no, è stato bello. Se ci pensi, un anno fa di questi tempi si viveva questa stranissima estate del rinnovo di Maldini, no? Oggi è il 26 di giugno e Maldini rinnovò poco prima della mezzanotte del 30 giugno. Sì. E noi che siamo sempre i soliti brutti, sporchi e cattivi, per i milanisti o interisti gioventini più fanatici, dicevamo, non è normale però che stia accadendo questo, no? Sembrava che bestemmiassimo in chiesa. Cioè, se siamo arrivati a dover firmare all'ultimo secondo, le frizioni tra le due parti sono enormi. Ecco, ripensandoci, pensate che errore capitale ha commesso il Milan, innanzitutto, ma in parte anche Maldini, che peraltro i soldi in tasca se li ha messi, nel rinnovare così ho torto collo una collaborazione che si capiva fin dall'inizio che non stesse in piedi. Maldini ha sballato completamente la campagna acquisti. L'ha sballata. Con quella famosa frase, sì, siamo in ritardo, ma... Gestendola lui autonomamente. Ecco. Il Milan ci ha rimesso un sacco di quattrini. Alla fine, neanche un anno dopo, è finita pesce in faccia. Cioè, se un dirigente non è convinto del programma del suo club, il club non pensa che questo dirigente lavori con entusiasmo, in maniera proattiva per i suoi programmi, e rimanere insieme per obbligo, come in certi matrimoni, non porta mai nulla di buono. Cioè, io capisco che Ausilio e Marotta non siano entusiasti di dover tutti gli anni vendere dei calciatori perché Zang, se no non hai soldi per pagare gli stipendi. Però a un certo punto se lo fanno andare bene, vanno davanti alle telecamere e dicono beh sì, dobbiamo fare dei sacrifici, ma siamo contenti, faremo una squadra forte lo stesso. E con questo è quello che è mancato a Maldini un anno fa e forse per tutta la stagione. Fabio, hai perfettamente descritto i motivi che hanno portato alla separazione. Fine. Questo è. Sì, ma l'hai pagata con un anno di stipendio a Maldini e a Maldini. Ti spiego perché. E tutte le scelte di mercato sbagliate. Domani arriva, infatti la domanda era ma scusate, ma è una schedenza l'anno scorso? È cambiata anche la proprietà. Ma perché non un anno fa? Tralasciando il tema, ha vinto lo scudetto, cosa fai? Lo mandi via? Lasciamo quel tema lì. Fabio, domani arriva uno nuovo. Chiederà a Fabio, caro signor Ravezzani, chi mi troverò di fronte? Claudio Garioni è così, Pino Vaccaro è così, Cuomo Michael è così. Quando Gazzidis avrà parlato a Cardinale di Paolo Maldini? Secondo voi, no? Visto che sembra che noi un mese fa siamo caduti tutti dal pero. Cosa avrà mai detto a Ivan Gazzidis di Paolo Maldini a Gerry Cardinale? Gli avrà parlato bene? uno collaborativo? Temo di no. Temo di no. Temo di no. Gerry Cardinale cosa ha detto? Come ha ragionato? Tentiamo di fargli capire, di non agire per pregiudizio, di dargli l'ennesima chance e di dirgli i soldi che vuoi non li hai per filosofia nostra, però quelli che ci sono li gestisci interamente tu. ti diamo la possibilità di fare ancor più il manager di quanto lo facessi prima. Così è andata. Non mi va bene. Il 30 giugno Maldini esce da quella macchina incazzato, l'abbiamo visto, però esce con potere, non con i soldi ma con il potere. Tant'è che i 35 milioni li spende lui. Tant'è che voi avete mai visto Furlani, Cardinale, Moncada nei suoi viaggi in Belgio per De Chetelare? No. Avete mai sentito Ruiu che ci ha raccontato a Lugano c'era anche Moncada o un ragazzino basso che non so chi sia, magari era Furlani. No. Erano Maldini e Massara in autonomia. Se in questo anno e continui con le frecciatine pubbliche, le interviste e questo, allora dici basta, sei arrivati a un punto. E allora piuttosto che andare avanti con la doppia anima, interrompiamo oggi. Dove sul campo sei quinto. Sul campo sei quinto. Hai perso gli ultimi quattro derby, le ultime quattro straccittadine prendendo sette gol e segnandone zero. Sei uscito con tre a zero in Supercoppa Italiana e tre a zero in Champions League. Due più uno. Finiamola qui. È qui che dico oggi io dico questo e sono d'accordo con la decisione della società. Oggi faccio gli auguri e dico Paolo Maldini grazie mille tanti auguri di buon compleanno. 55. Se è stato un grande continuerà a essere un grande. Da casa diranno ingrato. Oggi il Milan fa bene a fare gli auguri. Perché il rapporto tra Maldini e il Milan e tra il Milan e il Maldini va oltre ogni rapporto lavorativo. Ho capito. Però molti l'hanno preso l'hanno presa male. Perché la bandiera resta ma quando c'è di mezzo un rapporto lavorativo tu puoi essere la bandiera dell'azienda quanto vuoi ma se il capo non sei tu tu devi sempre sottostare il capo. Vado in pubblicità perché mi preoccupa di questa cosa. Al di là della tristezza che può sempre rappresentare nel cuore del tifoso rosso nero il fatto di come è stato trattato meno Paolo Maldini eccetera c'è questo stato Claudio un po' così confusionale su chi prendere il gioco indovina chi prendiamo no perché c'è un post che ha acceso il post di Wanda il post di Wanda e in più c'è questo Guller giocatore che il Milan avrebbe idea di fregare a Barcellona e Real pagando addirittura più della clausola pur di averlo cioè chiaro Guller dopo vi faccio vedere la foto sembra un bambino scusate io non voglio non voglio offendere il lavoro di nessuno però ma non c'è non c'è cosa più inverosimile di quanto stai dicendo tu e non so da dove questa fa ridere questa in effetti io lo spiegavo esattamente lunedì scorso me lo ricordo perché ho fatto esattamente lo stesso turno le stesse dirette e dicevo forse c'eri tu Pino dicevo andare a prendere un giocatore con clausola recissoria come andare a trattare un giocatore a parametro zero perché la clausola recissoria può andare anche la Garioni Football Club a dire sono 17 e mezzo lo voglio io Arda Guller dove si gioca la partita? sul giocatore sulle famose commissioni e sul famoso ingaggio secondo voi la partita per Arda Guller si vince la vince chi paga di più il Fenerbahce o chi paga di più il papà e il giocatore? se fosse stato quello di Donnarumma il giocatore e il papà no non è Donnarumma che abbiamo capito che sono tutti Donnarumma in questo mondo esatto sono un po' tutti Donnarumma no Fabio la scheda parla chiaro il bambino Guller perché il bambino Guller sembra che esca dalle fiavi di Harry Potter lo vedete alla vostra sinistra cioè viene giù col treno da Hogwarts tutto contento e ha 18 anni alto 1,76 m fa il trequartista e questo magari è un prospetto interessante Fabio cioè io ribadisco il concetto magari questi ragazzi che costano così poco diventano dei vari astri nascenti alla Oilund ma sai che costi così poco un ragazzo di 18 anni ho qualche dubbio però sei veramente fortissimo più prebende varie che devi andare in giro diciamo sono 20-22 che un ragazzo di 18 anni appena compiuti turco che viene dalla Turchia e cioè da un mondo piuttosto diverso perché ci sono i turchi diciamo di seconda generazione che arrivano dalla Germania come c'è la Noglu comunque che hanno già fatto un passaggio in Europa un po' più adulti non lo so forse sono qui a dire che non spenderei 40 per per frattesi ma anche 20-22 per Gouler di anni 18 talento ma ancora in un'età in cui cambiando nazione linguaggio usi costumi io non conosco bene lui la sua famiglia però avevo avuto per esempio l'impatto di come si chiama Akan Sukur quando Akan Sukur stiamo parlando poi di una ventina d'anni fa non della preistoria quando Akan Sukur viene in Italia al Torino TuttoSpor mi manda qualche giorno in Turchia e io avevo visto la realtà di Akan Sukur lui era una specie di fondamentalista islamico per certi versi era uno che pregava era uno che veniva da una cultura molto diversa faceva la doccia con il costume da bagno perché non voleva farsi vedere nudo dai compagni intendo dire non so se questo Gouler per esempio ha questo tipo di problemi che avevano poi fatto sostanzialmente fallire l'avventura di Akan Sukur che all'epoca era un'ira di Dio in Turchia siamo qui a chiederci se davvero Icardi vale quello che vale in relazione al fatto che giochi in Turchia e questo ragazzino gioca in Turchia è un rischio cioè e chiudo se i 18 milioni rispende un club che ha una potenza di fuoco notevole come il Barcellona come il Manchester ok dice bene lo prendo lo metto lì lo faccio giocare nella primavera poi vedo dopo sei mesi come va allora quello ha un senso è un investimento potenziale se lo prende il Milan con quei soldi lì lo mette al posto di De Chetelare punto è finito certo però questo regge ci sono molte incognite questo va detto l'unica cosa positiva se mi permette di ironizzare il direttore che è nato il 25 febbraio lei il 24 quindi una garanzia cioè quelli che nascono intorno a quelle due date sono fortunati e quindi tanto mi fa piacere che lei si ricordi a memoria il mio compleanno no direttore nel senso lei nascendo il 25 febbraio ha la certezza che potrebbe essere un piccolo Ravezzani del calcio vabbè glielo auguriamo assolutamente glielo auguriamo assolutamente no però Claudio concludendo questo discorso Milano poi abbiamo anche da parlare della Juve diciamo del post di Wanda esatto di questo post di Wanda cioè adesso il fatto di Wanda che cerchi di non si capisce si vuole rilanciarsi lei nella Milano della moda o rilanciare il marito che lui sia sempre legato a Milano è noto che voglia stare in Italia è noto poi bisogna vedere se gli si apre la porta d'ingresso nel senso che Icardi io quando l'ho visto giocare in Serie A mi è sempre piaciuto ed è un giocatore che ha i suoi limiti e le sue qualità quindi messo dentro a un sistema di una squadra che sa che cosa chiedere a Icardi cioè che lui abbia l'opportunità di essere il punto di riferimento davanti senza dovergli dire devi muoverti devi gioca vecchio stile come centravanti vecchio stile ma un'ottima capacità realizzativa che è una dote rara a volte negli attaccanti dipende quanto ti può costare ma soprattutto dipende la grossa incognita oggi di Icardi è che cosa ha nella testa in questo momento cioè è un giocatore che a Parigi a un certo punto ha staccato la spina all'Inter ha staccato la spina e quando va in blackout poi è difficile riportarlo sul campo a fare gol lui lo sa fare ma a volte si spegne e quindi quest'anno il problema gli ha fatti Claudio il problema il problema ieri la sua la sua moglie ci facilita la vita si guarda adesso scusa voglio coglierlo perché adesso viene pubblicato proprio mezz'ora fa vabbè da un sito Corriere Adriatico però Vandanara sexy vacanza bikini fluo fan impazzito cioè quella del bikini fluo mi fa impazzire cioè il problema è se ti prendi Icardi e ti prendi anche il bikini fluo cosa c'entra stiamo parlando di calcio a me ho capito però il problema è che se tu ti porti lui ti porti anche il bikini fluo mi scusi Dallò mi scusi Dallò lei viene dalle spiagge della riviera romagnola di dove diavolo era Vignano sabbia d'oro direttore non era proprio siccome so che lei passa il tempo allumare le pupe come giocattetto avrà notato che quest'anno vanno di moda i bikini fluo si lo capisco me lo sono messo anch'io mi scusi però il problema è sconvolto dal bikini fluo no scherzo però voglio dire lei si porta via si porta via lei forse va per i pensionati dove è la sua categoria dove sono tardone che si vestono ancora con quello col pezzo unico quando io sospendo il collegamento con la redazione del direttore perché lei è molto cattivo in questo caso dice cose bruttissime comunque dai tra i cardi origi se scelgo i cardi beh ci mancherebbe in pantofole a me dispiace che lui abbia questa situazione qui anche ieri sei in Brasile pubblichi la storia fai cacciara e l'elimini ma che atteggiamento è ma che mondo è ma che roba è ma che cosa fa a me dispiace perché hai detto bene tu perché i cardi se non avesse questo codazzo che credo sia una delle robe più pericolose che puoi mettere in uno spogliatoio che ha perso in una settimana Ibraimovic Maldini e Tonali immaginati a mettere questo qua le storielle il cagnolino bianconero che vuole andare alla Juve la zebra il gattino nerazzurro e la cavia giallorossa che chiama la Roma posso dirti una cosa posso dirti una cosa io sono stato un fiero avversario giornalisticamente parlando di Icardi quando era all'Inter e ho avuto ragione quando mi dicevano ah tu ce l'hai con Icardi guarda quanti gol fa e io facevo e mi sono dicendo non si fa così ha una moglie che è una bomba a mano lui è devo dire però questo un paio di considerazioni così primo lui ha saputo ricostruirsi perché andare a giocare in Turchia venendo pagato 10 milioni di euro comunque perché il contratto che gli garantiva a prescindere Paris Saint Germain e venirne fuori bene ricostruendosi è un bel gesto di umiltà due lei probabilmente ha capito anche che a fare la fenomena ha fatto solo il danno di suo marito e probabilmente non avrebbe più questo atteggiamento molto presuntuoso da femme fatale che pensava di avere sui piedi tutta l'Italia e l'Argentina salvo poi invece accorgersi di essersi rovinata la reputazione tre i cardi gode del decreto crescita e ha un contratto di 10 milioni ancora per un anno col Paris Saint Germain ma se tu gli fai un contratto di tre anni quattro anni e gli dici bene ne prendevi dieci facciamo che poi i prossimi io te ne do quattro e mezzo e quindi alla fine diventa un impegno molto più basso molto più sopportabile cioè spalmi in quattro anni quei dieci lì dandogli una media di 5 milioni di euro l'anno non hai il problema secondo me anche del Paris Saint Germain perché nel momento in cui lui dice no torno indietro vado al Milan o niente anche a Paris Saint Germain anziché chiederti quei 15 milioni che restano magari te la cavi con 4 o 5 insomma chi ti porti a casa ti porti un giocatore che ha l'età sostanzialmente di Lukaku che prendi praticamente a parametro zero che in Italia ha fatto dei gol e che sembra essersi ricostruito in al Galatasaray in un ruolo in cui tu non hai una riserva perché non dobbiamo dimenticare che se Pioli vuole continuare a giocare con una punta sola di peso e abbiamo capito che Orighi non lo è Rebic abbiamo capito che ha finito non lo sarebbe stato neanche Turam per molti versi perché è più uno di movimento e tu hai l'unica punta per quel tipo di gioco lì che ha quasi 38 anni che era arrivato come alternativa di Ibra perché Ibra era ancora un fuoriclasse e lui era un anziano attaccante adesso è sempre più anziano non c'è più Ibra e secondo me non può che essere lui Giroud l'alternativa di un titolare se non hai idee migliori e non mi sembra che il Milan in questo momento stia battendo piste di grandi centravanti non lo sappiamo io rischio di Cardi lo correrei io sinceramente Fabio noi dimentichiamo un passaggio che lui non si ricostruisce dopo l'Inter lui per ricostruirsi va in un campionato dove Borini fa gli stessi gol ma dove gioca Gouler che tu vuoi comprare a peso d'oro ma lascia perdere Gouler Fabio lascia perdere Gouler vale 18 milioni di euro eccetera è un fenomeno il nome di un fenomeno è un fenomeno no tieni come termine di Paragone Balotelli che l'anno scorso alla Dana Demerspor nel campionato di Cardi fa 18 gol quest'anno al Sion a momenti retrocede non so come è finita ma a momenti retrocede quindi quello o Borini che ne fa 20 Fabio a Parigi si sono svegliati un giorno meno male che c'era Ken Moise Ken perché lui era caduto in depressione perché si sono perché si sono si erano lasciati era caduto in depressione dopo il ginocchio la depressione a me spiace perché per me in Italia fa 20 gol in ciabatte chi? però ragazzi è un rischio sto cadendo in depressione anche io fra un po' nel senso saluto Luca Momblano scudettato scudettato ex scudettato la maglia della Provercelli ne ha 7 la Provercelli esatto scudettato vado in pubblicità Luca e poi torniamo perché dobbiamo parlare sta arrivando Giuntoli cammina piano piano da Napoli verso Torino poi la mamma di Rabiot potrebbe aver deciso che il ragazzo resta insomma di argomenti io ce ne sono parecchi Bentonati l'unico dramma è che ho perso Momblano non so come mai ma lo richiamo perché è caduta la comunicazione con lui no parliamo di Juve direttore nel senso sta arrivando Giuntoli finalmente l'hanno visto con la valigia alla spezia sta salendo piano piano ecco Momblano mi ha ritrovato no Fabio finalmente sta arrivando Stomino il risolutore è stato un grande scoop come sempre di Luca Momblano la settimana scorsa aveva detto da lunedì Giuntoli operativo magari non sarà operativo oggi ma diciamo in un paio di giorni ecco meno male la Juve comerebbe velocemente un grave gap che per esempio il Milan non è riuscito a colmare no? cioè il Milan aveva detto prenderemo comunque uno bravo al posto di Maldini che farà non si è visto nessuno quindi sarebbe un'operazione direi opportuna anche se leggermente tardiva ma insomma il mercato sarebbe aggiunto lì lo può cambiare subito anche lui Luca allora dici complimenti alle mombombe come diciamo sempre no ma la parte importante è il fatto che ovviamente parliamo di un ruolo opportuno e necessario e che si concretizza credo che poi c'è una seconda parte che si può dire e non si può dire volendo cioè che Giuntoli è un tesserato Napoli in questo momento quindi sta all'allarghissima dalle trattative della Juventus è un attimo poi uno come De Laurenti non si scherza no ci sono dei regolamenti da rispettare tutto il resto però per esempio si vocifera che un paio di questi nomi su quali siamo atterrati nel raccontare questo inizio mercato della Juventus paradossalmente persino anche lo stesso rinnovo riscatto scusate di Arcadio Smilic comunque la longa mano di Giuntoli sia già presente uno su tutti però ripeto un vociferare quello uno su tutti ma va no Luca sai perché te lo dico perché Pino Vaccaro e Matteo Caroni sghignazzavano quando lo dicevo una settimana fa che cosa che cosa dicevo che Giuntoli sotto traccia come minimo starà già dettando la linea e voi ma secondo voi da DS del Napoli tu hai detto un'altra cosa che stanno facendo già delle operazioni hai fatto pensare quella è una cosa che quella non è una roba regolare e noi ti abbiamo detto stai calmo perché si dice una roba che non funziona è certo è certo e non si scherza è certo è sentito va bene va bene quindi quindi Manna sapendo che gli arriva un capo una settimana dopo di cui si parla da due mesi andava a Torino a bere il caffè ma non parlava di mercato quando gli dava a bere il caffè io credo sempre a correttezza del personale Giuntoli è stato corretto sì il caffè è corretto figura di fatto operazioni che lo poteva fare vorrei ricordare due elementi anzi porto un esempio perché mi è stato detto che quella c'è una benedizione forte da parte di Giuntoli in nome di Parisi che se ci pensate fino a due settimane fa sì si era letto tanto Parisi Piace Juve Napoli Lazio Minan Inter Fiorentina eccetera però la Juve ha osservato Parisi a lungo in questi due anni non c'era proprio questo bottone acceso è un giocatore sul quale guardate poi all'improvviso l'offensiva per Parisi consicura benedizione anche di Giuntoli che però ripeto non sta alla larghissima dal fare qualunque tipo di telefonata o tantomeno sedersi a qualche tavolo da presunto direttore della Juventus però su questo diciamo che questa accelerazione è già un segnale sicuramente del fatto che ci sono delle idee da parte di un dirigente che è vero che è un tesserato Napoli è vero che deve stare attento e rispettare quelli che sono gli impegni e le cose che non è duopo fare a livello concreto e pratico ma che da tutti gli affari del Napoli è esautorato da settimane ma avrà detto sì o no a Milik per esempio allora su Milik ti posso dire che non è tutta farina del sacco di Allegri ecco mentre c'era stata questa equazione forte tra Allegri e riscatto di Milik come oggi si fa l'equazione non forte fortissima su Allegri il segnale che Allegri rimane è il fatto che Rabiot accetta a 28 anni quando ha il contratto della vita da fare un annuale senza vetrina internazionale alla Juventus che ovviamente sarebbe la cosa più juventina che vediamo fare da un giocatore della Juventus negli ultimi 7-8 anni vediamo se davvero va così oggi ci sono indiscrizioni che dicono che mercoledì sia il giorno buono io sarei più cauto però sicuramente è un fronte sul quale guardare quello di l'eventuale permanenza di Rabiot ma su Milik non è tutta farina del sacco di Allegri e quindi avrà scelto l'anno questo non te lo posso dire per certo dubito dubito e allora e allora stiamo gironzoliamo intorno scusami tu ci racconti che giuntogli era a prendere un caffè ad aprile a Torino allora io ti chiedo Luca Momblano nella caffetteria più in rinomata di Torino davanti a un Gianduiotto davanti a un Gianduiotto e con gli occhi di Luca Momblano che ha occhi dappertutto ma giuntoli cosa veniva a fare a Torino perché a Napoli non si mangia bene o il caffè più buono a Torino che Napoli vogliamo far passare sta roba qua no no e allora di cosa parlava giuntoli scusami no ma guarda guarda io credo che giuntoli abbia pensato a se stesso da nove no ma lo spiego ma com'è giusto che sia nel senso che lui da novembre che sono interrotti i rapporti con De Laurentiis e i tempi non sospetti e quindi di fatto si è trovato a mettersi sul mercato quando c'è stato lui non è stato l'unico direttore con il quale la Juve ha parlato lui ha detto le due o tre cose giuste in premessa quando si è seduto la Juve ha fatto breccia ha fatto un buon gioco per arrivare alla Juventus ricordo anche che ricordo lì è Juventino anche se parliamo di un professionista quindi conta giusto però una volta odorata la possibilità di ha messo in campo tutte le sue forze tra le quali in premessa dire sappiate che io lavoro con qualsiasi allenatore molto scaltro intelligente nel capire che in quel momento siamo ad aprile la posizione di Allegri non è un argomento da toccare visto che sta facendo il facente funzioni in una situazione di totale emergenza come oggettivamente li riconosciamo tutti per quei mesi poi l'analisi sul bienio di Allegri è tutta altra roba e adesso però Allegri si trova a un passo da prendersi un terzo anno che ci dirà tutto del suo legame bisco la Juventus perché sicuramente potrà sbagliare poco e dovrà creare di nuovo un rapporto quasi da zero ma intendo dire riprendere il filo di tutto il discorso con lo spogliatoio e con questi dirigenti e quindi per Allegri secondo me lavoro con gli straordinari se accetta questa sfida e vuole questa sfida mi aspetto un Allegri più energico diverso proattivo il vero Allegri che conosciamo perché ci serve il prossimo anno sei abbastanza convinto su questo direttore lei ha detattato nell'area che ci narra l'arrivo di Giuntoli come se scendesse la manna dal cielo e quindi siamo a posto la manna più che dal cielo torna la manna 23 torna sui suoi passi no manna rimarrebbe a lavorare comunque nel gruppo prima squadra con prolungamento del contratto di un anno ringraziandolo anche per questa situazione in cui comunque sta lavorando si ha fatto lo stucco francese dove ha agito dove ha agito in autonomia ma devi saperlo fare bisogna sapere anche fare lo stucco francese ovvio si si ha agito in autonomia persone corrette stanno parlando praticamente dal 4 giugno chiusura del campionato al 10 giugno ha scelto tutto Allegri dal 10 giugno parole di Scanavino al 26 giugno ha scelto tutto Manna dal 27 giugno sceglie tutto Giuntoli e c'è però mi pare lineare mi pare si si lineare ma ti brucia il peperone no non mi brucia il peperone non mi brucia il peperone Giuntoli aveva il numero di manna qualcuno qui il numero di telefono qualcuno qui la settimana fa mi sottolineava che Pierpalo Marino si era liberato dall'Udinese va bene anche io no Luca dimmi visto che mamma Rabiot che è tanto brava tanto bella e tanto brava a gestire il figlio pare abbia deciso si se non fosse che il Manchester United all'improvviso ha calato l'asso cioè l'offerto ufficiale l'offerto ufficiale di 4 anni con opzione per i due successivi 4 più 2 non conosco le cifre lo United ricordiamo che aveva sostanzialmente acquistato o meglio aveva concordato con la Juventus in fratti dell'accessione di Rabiot ad agosto scorso a 20 milioni Tenaga all'epoca era nuovo e non era convinto adesso pare convinto e vediamo perché secondo me a questo punto Rabiot scioglierà le riserve il Corriere dice mercoledì io sui tempi perché so che la Juve non ha dato un tassativo 30 giugno a Rabiot che è un free agent o meglio lo è di fatto dal primo luglio lo sarà a tutti gli effetti quindi si balla lì c'è una disponibilità vera a riflettere su un contratto paradossale incredibile se ci pensiamo un anno solo alle stesse cifre piccolo premio alla firma certo assumendosi un rischio incredibile per la sua carriera ma noi e Allegri lo accoglierebbero ovviamente come un segnale di 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 non vorrei fosse un segnale di comfort zone per un giocatore che che in teoria dovrebbe essere richiesto da mezza Europa considerato non solo che free agent ma anche fatto una stagione almeno fino a marzo fantastica vediamo United grazie Luca grazie a Luca chiudiamo questa sera la direzione la conduzione del direttore che sarà commessa su Oblivion a Gardaland quindi scoppiettellante bellissima grazie a tutti chiudiamo la redazione grazie a tutti